È stato firmato a Palazzo Grassi a Roma l'atto costitutivo del partito di Giovanni Totti Cambiamo. La firma è avvenuta alla presenza di parlamentari, assessori, consiglieri regionali e amministratori provenienti da tutta Italia. Fra questi gli assessori regionali Liguri Marco Scaiola, Giacomo Gianpedrone e Laria Cavo e il consigliere regionale Angelo Vaccarezza. Da questo momento, ha spiegato Totti, il panorama politico si arricchisce ufficialmente di una nuova forza che punta a dare voce a tutti coloro che non si sentono più rappresentati dai partiti tradizionali e sognano un centrodestra nuovo. Da oggi, gli uomini e le donne che credono nella crescita, nello sviluppo, nella meritocrazia e nel futuro hanno una nuova casa. E nella nuova casa sono già confluiti nove parlamentari. Si tratta dei deputati Manuela Gagliardi, Spezzina e dei Lombardi Stefano Benigni, Alessandro Sorte, Giorgio Sili e Claudio Pedrazzini e ancora dei senatori Massimo Vittorio Berruti, Gaetano Quagliarello, Gino Vitali e Paolo Romani, che hanno sottoscritto lo statuto. Totti ha evidenziato che si parte dal basso e a scegliere saranno sempre gli elettori.